All right! A vedere si aspetta. Volevo dire all right! Grazie. Allora, permettemi di dire una cosa, penso, voglio salutare uno dei nostri fan più giovani, Paolo, che è qua stasera. Ha voluto essere presente a tutti voi. Bene. Non era in scaletta, ma l'abbiamo finchata dentro. Eh, come si suolte. Uno dei più più blues della storia della musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.